Ciao, siamo Andrea Valentina della Cucina del Fuorisede e siamo due blogger, abbiamo aperto il nostro blog nel 2017 e abbiamo aperto questo blog proprio per raccontare la cucina specialmente a chi lascia la doppia terra per andare a studiare o lavorare proprio fuori dalla propria regione. Siamo qui al carrerale di Putignano con un piatto che è in linea con quelli che sono i piazzi del nostro blog perché sono a basso budget e soprattutto a basso livello di tempo e di diversità. Infatti oggi avevo proposto due ricette abbastanza veloce e il nostro volo di battaglia sono ricette senza cottura proprio perché gli studenti hanno poco tempo e abbiamo pensato a due aperitivi, il primo è un crumble di taralli aromatizzati al basilico con della stracciatella e pomodori confit e poi una sfera di mortadella e ricotta con granella di pistacchio. Grazie a tutti! Grazie a tutti!